16esima giornata al girone F di Serie D che regala ben 27 marcature, frutto i tre successi esterni, una sola vittoria interna e ben 5 Parigi di cui due reti bianche. Il primo lo vediamo tra Francavilla e Sant'Arcangelo dove dopo le dimissioni nel DS Gianluca Stambazzi e l'addio di 5, Clementini raccolgono un punto importante in esterna che muove la classifica e fa morale. Invece Cesena passa dal meno 7-10 giorni prima al meno 1 approfittando della sconfitta del Matelica a domicilio con la Re Calattese che dopo in Cesena batte anche i marchigiani. Al Manuzzi 4-1 finale contro la Vastese porta le firme di Ricciardo con gentile collaborazione del portiere ospite. Lo stesso attaccante si ripeterà 3 minuti più tardi sigrando il gol del 2-0. Prima del duplice fischio finale la Vastese rientra in partita con una punizione splendida ad opera di Fiore ma fortunato 2 minuti più tardi ristabilisce la distanza a più due lunghezze. Nella ripresa Tortori al 73esimo firma il poker con un destro a giro 4-1 e fine dei giochi. Cade la Savignanese in esterna sul campo dell'Avezzano, un rimbalzo sa di Tranello per l'estremo ospite romagnolo scaturendo il vantaggio a cura di Besana. La zona Savignanese si accende al minuto 87 quando Sulci dal corner ristabilisce la parità ma nei finali i troppi metri concessi dalla difesa romagnola permettono a Padovani a novantesimo di trovare i gol partita. Si annullano la vicenda a San Maurizio e a Yesina, vantaggio ospite a sorpresa firmato da Bubai al 51esimo ma quando i giochi sembrano chiusi ecco che al novantesimo Zuppardo fa gridare a gol i propri supporters. Col medesimo risultato e con lo stesso andamento del match danno vita all'accesa partita San Giustese e Forlì, padroni di casa avanti con Camillucci al minuto 45 con gentile collaborazione del portiere forlivese, pareggio bianco rosso al minuto 81 firmato da Del Sante. Infine sottolineiamo la giornata nera dei portieri e molti gol arrivati al fotofinish.